Notte movimentata nel Capo di Leuca con due sbarchi e circa 170 migranti giunti nella marina di Castrignano del Capo. Il primo sbarco è stato registrato intorno alle 22 dopo che il motovelliero in avaria è stato soccorso dalla guardia costiera a circa 14 miglia dalla costa salentina, stipati a bordo del natante 67 migranti. Un'operazione tutt'altro che semplice proprio a causa delle condizioni atmosferiche con raffiche di vento e piogge a tratti battente che rendevano tutto molto più difficile. Ad attendere i migranti sul molo c'erano gli operatori della Croce Rossa italiana per i primi soccorsi, i medici USMAF dipendenti dal Ministero della Salute, la Caritas e le forze dell'ordine. Dopo essere stati rifocillati sono stati condotti verso il centro di prima accoglienza Masseria Ghermi a Lecce. Si tratta di un gruppo composto da 40 uomini, 11 donne e 15 minori maschi di cui 10 non accompagnati, una sola minore di sesso femminile. Circa le nazionalità il gruppo più folto è composto da afghani 34 e da palestinesi 15, poi 7 egiziani, 5 siriani, 2 iraniani, 2 turchi e 2 irachieni. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro ma non è tutto. Qualche ora più tardi in piena notte è giunto a una seconda imbarcazione con 100 migranti a bordo, tra questi anche un lattante di appena 4 mesi che ha dovuto affrontare e superare le intemperie del suo primo viaggio, un viaggio che probabilmente mai ricorderà ma i volontari non scorderanno quel bambino coraggioso e silenzioso costretto a sfidare durante il viaggio il freddo del mare, il forte vento e la pioggia che scendeva giù come le lacrime di chi lo abbracciava.